ebbene è arrivata la cosiddetta amaca per i seni un accessario che sarebbe molto utile a ben giudicare o meglio secondo la ideatrice che per l'appunto lo ha creato uno strumento che ha il compito necessario che è quello di asciugare il sudore provocato dallo sfregamento dei seni sull'addome la donna che l'ha inventato dice ho provato tutto ho infilato asciugamani sotto i miei seni ho provato a spolverarmi di talco ho anche messo una maglietta che ho messo sotto le mie tette mentre asciugavo i capelli continuavo solo a pensare deve esserci un modo per migliorare e per evitare che mi goccioli il sudore nello stomaco ed ecco che sono arrivate per così dire le amache dei seni in questo modo per l'appunto non si verifica il gocciolamento che potrebbe eventualmente arrivare sembra in effetti di trovarsi in dinanzi ad una sciarpa da mettere dietro al collo ma che in realtà termina con due coppie nelle quali sono contenute pensate i due seni di una qualsiasi donna che riesce a asciugare il sudore umano bene complimenti alla ideatrice che si chiama Erin Robertson davvero una straordinaria idea complimenti e un saluto e a presto grazie